Sindaco, riqualificare Stella Maris attraverso un manifesto sottoscritto finora a livello regionale e anche nazionale? Sì, stiamo andando avanti in questo processo che ci vede impegnati per portare l'Accademia delle Belle Arti a Montesilvano, nella sede della Stella Maris, per creare dei corsi internazionali, quindi aperti al mercato europeo, alla richiesta europea ma soprattutto alla richiesta internazionale, che purtroppo l'Accademia delle Belle Arti di Roma non riesce a soddisfare. Riteniamo che possa essere la ideale collocazione per fare in modo che finalmente la Stella Maris possa ritornare a splendere. L'ultima firma che è stata sottoscritta al manifesto è quella del sottosegretario alla difesa, l'On. Alfano, che ha voluto sposare questo progetto e che l'ha ritenuto estremamente interessante. Grazie.